Andrea Cartisano, guarda, do subito la parola a te su questo, ovviamente poi facciamo la nostra panoramica dei mercati, però ci stanno chiedendo tutti cosa ne pensiamo di Stellantis. Ciao Andrea. Ciao Manuela, io sono il meno indicato a poter rispondere perché il mio feeling con l'ex FCA è abbastanza modesto da tempo, non ti nascondo che io non mi spiego un movimento del genere, perché comunque bisognava avere il titolo fino alla chiusura di venerdì per prendere il famoso dividendo da 1,8 Euro, il loro business se non è cambiato qualcosa nella notte è vendere auto, auto se ne vendono poche, i concessionari sono chiusi e un aspetto del quale teniamo magari poco conto è che molte delle auto che vengono vendute in realtà sono immatricolate dai concessionari e invece sono nei piazzali, quindi sinceramente ti dico proprio non mi spiego questo movimento, ovviamente dal punto di vista tecnico ormai il titolo sembra poter addirittura andare a rompere i massimi relativi di breve periodo che ha fatto la settimana scorsa poco sopra 13,50 adesso è andata proprio mentre parliamo in sospensione perché comunque è a più 5, in realtà più 4,95 sul prezzo di controllo ma più 5 sospenderebbe per cui è un fenomeno che io non capisco, credo che purtroppo il mercato sia mosso anche da logiche per cui tolto un periodo breve dove la famiglia Agnelli e il Cannes non è stata difesa dal mercato, ormai sono anni che affronte anche delle sparate di Marchione perché io sono uno dei pochi in Italia che non si è sprecato in piana nei confronti di Marchione perché secondo me è stato un grande stratega a livello finanziario ma i numeri che ha promesso non si sono mai concretizzati e poi viene spesso dimenticato che oggi FCA, attualmente Stellantis, è arrivata dove è arrivata grazie al grande maestro di scacchi Paolo Fresco che aveva negoziato la put con GM da un miliardo di euro e che Marchione ha potuto esercitare per cui per me rimane un mistero, non ci ho capito nulla, lo ammetto candidamente, ovviamente chi ha tenuto il titolo perché comunque bisognava tenerlo fino a venerdì almeno alla chiusura di venerdì per avere diritto al dividendo, se lo tenga magari uno stop profit in caso di ritorno sotto direi 12,87-12,86 lo metterei comunque, non entrerei in questo momento perché ripeto i numeri sul bilancio dell'anno scorso vale 34 volte gli utili quindi mi sembra assolutamente ben prezzata se non di più, ecco. Insomma comunque non ti convince Stellantis? No, però non ci ho capito nulla per cui io diciamo che per mia fortuna non ci capisco nulla ogni una volta, due volte l'anno come non ci ho capito nulla su Nexi, su Amplifon, però diciamo che chi mi ha ascoltato oggi non piange lacrime amare su Bion, che sono uno dei pochi in Italia che aveva previsto tutto mesi prima di Quintessential, quindi diciamo che qualche merito ogni tanto ce l'ho. Andrea, senza volerlo, è come se avessimo iniziato proprio questo collegamento con quello che ho definito un postore di borsa ma perché è anche interessante proprio a livello di analisi fondamentale a vedere insomma cosa le aziende ci dicono proprio per poi operare in borsa, però tenendo ben presenti alcune questioni che non si possono assolutamente bypassare quando si decide di andare appunto a vedere che cosa fa un titolo.